La soddisfazione di riprendere questo tradizionale appuntamento del torneo internazionale femminile tennis. Dopo i due anni di pausa forzata, quando la federazione internazionale ci ha chiesto di riprendere la tradizione dell'organizzazione, addirittura ci ha richiesto un salto di categoria, quindi organizzare una manifestazione di livello ancora più elevato con un monte premi da 60.000, siamo stati entusiasti di accettare questa sfida, quindi ci siamo rimessi all'opera, abbiamo chiesto agli amici sponsor, primis alla società Cogepa che è il title sponsor della manifestazione, di darci una mano ad affrontare questa avventura e quindi siamo fiduciosi di riuscire a offrire agli sportivi casettani un evento di qualità e di elevato spessore. Dopo due anni di difficoltà anche per lo sport, finalmente ritorna il torneo internazionale di tennis femminile del cuore di casetta, quindi si riaccindono i riflettori internazionali su questo evento tenistico il più importante e il più rappresentativo della città e che è anche occasione di promozione del nostro territorio in tutto il mondo, quindi siamo assolutamente felicissimi di questo e penso che credo tutta la comunità è pronta ad accogliere le migliaia di appassionati che chiaramente verranno nel periodo del torneo per godersi insieme questo spettacolo indimenticabile.